Qual è l'importanza della progettazione partecipata nei rapporti fra l'ente pubblico e gli enti del terzo settore? L'importanza della progettazione partecipata sta nel fatto che la progettazione partecipata permette, essendo un approccio di apprendimento, di mettere insieme l'ente organizzatrice di un determinato prodotto insieme ai destinatari del progetto. Facendo sì che i due componenti possano comunicare insieme e quindi scambiare esperienze che riguardano il progetto in questione e quindi imparare dall'uno all'altro quali sono le capacità per poter realizzare il progetto di comune interesse. Ha parlato a modo generale, concretamente, come definisce una sua esperienza in questo campo? Io ho conosciuto, mi sono approcciato al concetto di progettazione partecipata nell'ambito universitario dove ho potuto sperimentare nell'ambito del settore tecnologico che cos'è la progettazione partecipata all'interno di un workshop. Così come anche ho partecipato in quanto presidente dell'associazione dei camorronenzi all'interno di un laboratorio che usava questo approccio qua. Da lì è nata l'idea di proporre un workshop insieme all'entici informi per quanto riguarda la progettazione di un progetto insieme alle associazioni. E quindi ho apportato la mia esperienza al servizio non solo dell'entici informi ma anche delle associazioni a cui il servizio si rivolge. Come definisce questa esperienza il percorso fatto con le associazioni? In cosa è emerso? Allora è stata davvero un'esperienza fantastica nel senso che all'inizio c'era comunque la sensazione che è immersa era una sensazione un po' di differenza nel senso uno si chiede ma che cosa verrà fuori da questa piccola esperienza? Che è normale però quando siamo riusciti insieme alla mia collega Mella organizzare e quindi metterli insieme a confronto e discutere sull'argomento di loro interesse hanno scoperto che in realtà insieme poi al CINFORMI hanno molto più cose in comune che delle cose che li differenziano. Quindi per me questa è stata la più grande soddisfazione e che hanno scoperto poi che si può lavorare insieme su determinati progetti. Direi che in questo caso il metodo è stato applicato non solo nel rapporto tra il CINFORMI e le associazioni ma anche all'interno delle associazioni stesse. Esattamente nel senso che questa esperienza qua ha permesso almeno me lo auguro e l'associazione ha permesso di scoprire un modo di lavorare anche all'interno delle loro associazioni. Io penso che sicuramente questo è il passo importante che il CINFORMI dovrebbe promuovere che questi approcci vengano applicati anche all'interno delle associazioni. Questo è stato il primo passo, poi ci lavoriamo dietro. Torniamo alla progettazione partecipata. Ci puoi spiegare meglio in che cosa consiste? L'approccio partecipata è un approccio che è nato nei paesi scandinavi nel 70, è nato nel settore dei lavoratori che rivendicavano le miglior condizioni di lavoro. Quindi è nato lì questo approccio. Poi si è diffuso nei vari paesi europei ma anche negli Stati Uniti d'America. Che cos'è? La progettazione partecipata si basa fondamentalmente sul fatto che i progetti che vengono proposti e che riguardano determinati utenti, questi devono dirla loro all'interno di questo progetto in questo caso. Quindi è un approccio di apprendimento dove l'organizzatore e il destinatario del progetto imparano l'uno dall'altro le conoscenze tacite ma anche le conoscenze esplicite e dove si scambiano queste conoscenze per il bene comune. Quindi l'approccio partecipata proprio a questa filosofia è estremamente importante. è differente da partecipazione 2Q perché la partecipazione 2Q in qualche modo toglie quell'aspetto di progettazione tra l'organizzatore e il destinatario dell'utente finale. Grazie a tutti.